buongiorno a tutti e benvenuti a questa prima lezione del tutorato di imad io mi chiamo alessandro in cremone come vedrete questa parte del del corso in cosa consiste questo tutorato fondamentalmente utilizzeremo matlab per mettere in pratica o meglio in simulazione i vari concetti che il prof vi spiega durante il corso di identificazione dei modelli e di analisi dei dati di lezione in lezione utilizzeremo blocchi di slide diverse io farò in modo di farveli avere nel sito dell'università in particolare dovete seguire per recuperarle questo percorso quindi scrivete su google icds lab cliccate il primo link è in questa pagina cercate imad a identificazione di modelli e analisi dei dati parte a prof de nicolao cliccate qui andate giù e su esercizi ed esercitazioni cliccate esercitazioni matlab e qui avrete a disposizione tutti i file utilizzati nelle esercitazioni degli anni precedenti quindi alla fine apparirà anche una sezione per l'esercitazione di quest'anno quindi avrete esercitazione 2020 2021 dove andrò mano a mano a caricare il materiale che utilizzo che verosimilmente sarà uguale a quello dell'anno scorso ovviamente voi selezionate sempre il file più recente dal momento che comunque mi riservo la possibilità di fare dei cambiamenti per questa primissima lezione utilizzo delle slide che forse alcuni di voi hanno visto al corso di automatica e che sono delle slide di introduzione a matlab quindi per chi lo ha già visto un po' nel corso di automatica questa lezione sarà un modo per ripassarlo per chi non l'ho mai visto diciamo questa lezione in ogni caso partirà da zero in questa lezione quindi vi presenterò un po' il software in generale e molti dei comandi base chiaramente non mi aspetto che li impariate tutti a memoria tuttavia è fondamentale mi invito a giocare un po' con i vari comandi in generale con il software familiarizzare con il software perché nelle lezioni successive si darà un po' per diciamo per scontato la conoscenza basilare di matlab quindi cos'è matlab matlab è un programma interattivo che utilizza il linguaggio di alto livello viene utilizzato per le più disparate applicazioni quindi da matematica finanziaria a controllo e via dicendo presenta anche dei toolbox alcuni di voi magari hanno sentito simulink che è quello specifico per il per le applicazioni in automatica in generale matlab deve il nome al fatto che opera fondamentalmente con matrici cioè l'elemento base di questo software è la matrice quindi pure le operazioni con scalari in realtà sono operazioni da matrici dove lo scalare viene considerato un po come la matrice del genere uno per uno come fate a scaricare matlab matlab di per sé a pagamento ma con la licenza universitaria voi potete scaricarlo aggiornata l'ultima versione gratuitamente e per farlo seguite questo link se cliccate su questo link vi si apre questa pagina scendendo in basso dovreste trovare una sezione dedicata a matlab che è questa qui e qui avete guido per la via della licenza se cliccate qua vi compare questo pdf dove seguendo dove avete questi passaggi da seguire per poter attivare la licenza scaricare installare il software io ce l'ho qua io forse non ho l'ultima versione ma ora 2019 v come si presenta matlab una volta aperto abbiamo in alto una barra di applicazioni con tutta una serie di funzionalità ne vedremo alcune più avanti e poi principalmente abbiamo tre sezioni la current folder quindi la vostra cartella di lavoro dopodiché c'è il work space che è una sezione dove vengono memorizzate le variabili e man mano che si chiama il codice e questa è la command window che è un po come un terminale quindi qua possiamo scrivere del codice eseguire delle 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 operazioni ok per cosa viene utilizzato principalmente matlab può essere utilizzato come una calcolatrice quindi fare operazioni come somme sottrazione moltiplicazione divisioni e potenze qui ci da un esempio quindi ad esempio io nel con nella command window posso scrivere 4 per 3 più 5 mettere tra parentesi fare diviso 2 e poi posso utilizzare l'elevamento a potenza quindi questo è il simbolo dell'elevamento a potenza quindi un'istruzione complessa e questo è il risultato mi stampa schermo il risultato 72 72,25 il punto e virgola messo al termine di un'istruzione impedisce la visualizzazione del risultato dell'istruzione stessa che cosa vuol dire da questo esempio che vi ho fatto vedere abbiamo visto come una volta digitato quindi la mia espressione cliccato su invio ho visualizzato il risultato immediatamente sotto sempre sulla command window in particolare vedo ans uguale 72,25 cioè vuol dire che il risultato di questa espressione è 72,25 e questo risultato è stato assegnato a una variabile che è stata creata che si chiama ans che sta per anser e che ce la ritroviamo tra le altre cose anche nel workspace sta qui se però alla fine di un'espressione aggiungiamo il punto e virgola ad esempio metto un'espressione più semplice faccio 5 più 3 e metto il punto e virgola alla fine faccio invio l'istruzione viene eseguita ma non viene stampato nulla nella command window questo perché ho messo il punto e virgola come faccio a sapere che l'istruzione è stata eseguita perché il risultato di quest'operazione è stato assegnato ad ans vedete che adesso qui uguale a 8 variabili ed espressioni le istruzioni matlab sono spesso nella forma variabile uguale espressione o semplicemente espressione dove l'espressione ci dice sono costituite da questi operatori che sono quelli che abbiamo utilizzato poco fa e non solo vedremo ora che cos'altro si può utilizzare innanzitutto concentriamoci su questa differenza tra variabile uguale espressione o solo espressione nel momento in cui io scrivo una cosa come quella che avete visto qua ad esempio faccio 5 più 8 questa rappresenta un'espressione abbiamo già visto che se io schiaccio invio con o senza punto e virgola viene calcolato il risultato e viene assegnato automaticamente a una variabile ans ma la variabile a cui viene assegnato è sempre la stessa quindi i risultati delle operazioni precedenti vengono sovrascritti questo chiaramente non è una non è diciamo l'ideale molto spesso vogliamo memorizzare più risultati e per fare ciò possiamo dichiarare delle variabili quindi invece di scrivere solamente l'espressione possiamo prendere una variabile a cui assegniamo un nome che vogliamo noi ad esempio la chiamo var uguale che è di assegnazione e poi metto l'espressione faccio 5 per 13 e metto il punto e virgola perché non voglio visualizzare il risultato ecco in questo caso nel workspace la variabile ans che fondamentalmente una variabile di default che viene a sé che viene presa quando non è specifichiamo ecco esplicitamente la variabile non è stata sovrascritta in questo caso ma è stata è comparsa una nuova variabile di nome var ma potete chiamarla come volete voi e il suo valore esattamente risultato dell'espressione alla destra del dell'uguale chiaramente le espressioni non sono diciamo addizioni moltiplicazioni sottrazione divisione elevamento a potenza non sono le uniche operazioni che si possono fare in matto ma ce ne sono molte altre ad esempio abbiamo le funzioni funzioni sono dei nomi simbolici con argomenti e tra parentesi qui ci dà un esempio che hai hai è la funzione che permette di calcolare la matrice identità quindi ha un suo nome seguito da parentesi tonde dentro la quale vanno messi dei parametri di input perché le funzioni possono o accettare nessun parametro o accettare uno o più parametri per poterci poi dare l'output in questo caso hai accetta due parametri sappiamo che sono due perché sono separati dalla virgola e serve a calcolare la matrice identità e in particolare il primo parametro ci dice il numero di righe che vogliamo che la nostra matrice che vogliamo nella nostra matrice e il secondo parametro il numero di colonne quindi in questo caso questo esempio questo hai 2,2 ci crea una matrice identità 2 2 per 2 lo assegno una variabile ad esempio la chiamo mat underscore id uguale ai 2,2 beh stampo il risultato quindi nella command window come vedete questa qua è la mia matrice identità posso anche visualizzare le variabili andandola a prendere nel workspace facendo un doppio clic vi si aprirà questa schermata come vedete posso visualizzarla anche in questo modo ecco ai in realtà può essere anche scritta con un solo parametro cioè se io avessi fatto ai,2 automaticamente MATLAB capiva che voleva una matrice quadrata quindi che è con lo stesso numero di righe e lo stesso numero di colonne quindi mi fa una matrice 2 per 2 in generale le differenti funzioni possono comportarsi in modo diverso a secondo del numero di parametri che gli passiamo però chiaramente come facciamo a sapere se una funzione prende uno o più parametri o nessuno ecco possiamo utilizzare, possiamo scoprirlo utilizzando la documentazione e quindi adesso colgo un po' di questa occasione per spiegarvi due comandi fondamentali che sono il comando help e il comando doc quindi se io faccio help seguito dal nome di una certa funzione in questo caso la funzione ai e faccio invio mi si apre questa documentazione nella command window che mi spiega come funziona i diversi modi di utilizzare questa funzione vedete che mi dice ai fa la identity matrix quindi la matrice identità e mi dà alcuni esempi di utilizzo quindi se io faccio ai e gli passo un valore n mi va a creare la matrice n identità n per n se passo due parametri quindi un parametro m e un parametro n allora mi va a creare una matrice identità con m righe ed n colonne quindi una matrice con m righe ed n colonne e qui dice coglioni nella diagonale e 0 altrove e così via con altre funzioni con altri parametri un altro comando oltre all'help è il doc se io faccio doc spazio e il nome della funzione questo lo sto facendo con ai ma chiaramente vale con tutte le funzioni mi si apre questa documentazione che è molto più approfondita di quella dell'help questa è la documentazione interna di MATLAB e qua mi dà dei dettagli più profondi mi fa anche degli esempi ok quindi poi oltre alle funzioni è anche possibile dichiarare numeri reali e numeri complessi per esempio i numeri reali li abbiamo visti per il numero complesso basta fare più 2 per i o anche j che viene interpretato automaticamente come l'unità immaginaria proviamo se io faccio comp num quindi una variabile e gli assegno 5 più 2 per j me lo ritrovo come numero complesso e anche se qua mettessi funziona in ogni caso ok adesso entriamo nel dettaglio con quelle che sono le matrici appunto che sono gli elementi fondamentali di MATLAB con questo esercizio che ci chiede di introdurre le matrici A le matrici A e B e di calcolare queste espressioni in particolare la prima dove abbiamo A seguita da questo apice vuol dire fare la trasposta della matrice A quindi questo apostrofo qui questo apice è l'operatore di trasposizione poi fare somma tra matrici sottrazione tra matrici scalare per matrice prodotto matriciale e elevare al quadrato una matrice ok ma come possiamo fare a dichiarare una matrice quindi abbiamo visto il caso della funzione A che ci fa la matrice d'identità e anche come utilizzare degli scalari ma come si fa di fatto a dichiarare una matrice lo possiamo fare utilizzando le parentesi quadre quindi nel caso della matrice facciamo una matrice di esempio facciamo MATX quindi una matrice di esempio tutti i valori della matrice devo metterli tra parentesi quadre ecco in particolare per mettere gli elementi su una stessa riga basta mettere appunto gli elementi separati o da una virgola o da uno spazio quindi ad esempio metto 13 voglio fare una matrice 3x3 faccio 13 spazio 2 spazio 5 se poi voglio andare a capo e fare l'altra riga devo mettere un punto e virgola allora metterò 4 5 1 ad esempio punto e virgola perché voglio una 3x3 faccio 8 9 0 non metto il punto e virgola perché voglio visualizzare il risultato e questa è la mia matrice quindi valori che stanno sulla stessa riga viene compilata per righe finché non metto un punto e virgola in pratica non va a capo quindi mi mette 13 2 e 5 sulla stessa riga poi metto il punto e virgola va a capo altri 3 valori punto e virgola a capo quindi chiaramente nel caso di vettori la procedura è simile possiamo fare vettori riga e vettori colonna con lo stesso diciamo con la stessa con la stessa procedura alla fine un vettore riga che cos'è? fondamentalmente appunto una matrice con una sola riga e diverse colonne supponiamo che voglio fare un vettore riga di 3 elementi allora faccio lo chiamo vec riga ad esempio faccio 1 spazio 4 spazio 5 fine questo è un vettore riga nel caso di un vettore colonna voglio fare lo stesso vettore ma lo voglio come un vettore colonna allora farò 1 punto e virgola 4 punto e virgola 5 e questo è il mio vettore colonna ok adesso possiamo andare al nostro esercizio quindi per prima cosa dobbiamo introdurre le matrici A e B ok forse prima di farlo il caso di spostarci su uno script cioè qui per adesso abbiamo scritto tutto il codice sulla command window che è un po' come il terminale chiaramente se noi adesso chiudessimo MATLAB tutto questo tutto questo sparisce e quindi diciamo non è molto funzionale preferiamo scrivere il nostro codice su uno script quindi su un file che poi possiamo salvare e fare andare di nuovo quindi fare il run di quel file in un secondo momento quindi clicco su new script e mi si apre quindi questo file posso salvarlo con ctrl s vabbè lo salvo vediamo qua ok lo esalvo sulla mia cartella di lavoro lo chiamo prima esercitazione punto un file con estensione punto m salvo ok un'altra cosa importante quando fate uno script dovete sempre mettere all'inizio di ogni script almeno non è obbligatorio ma è un consiglio che vi do tre comandi che sono clear poi a capo clc e a capo close all cerchiamo di capire cosa fanno questi comandi ve li faccio vedere nella command window allora se faccio il comando clear tutte le variabili del workspace sono sparite quindi elimina tutte le variabili presenti nel workspace se faccio clc pulisco la command window quindi tutti i valori che avevo stampato sono spariti il close all per adesso diciamo voi non vedete niente se lo faccio ma di fatto è se ho delle figure aperte vedremo poi più avanti come si fanno le figure me le chiude tutte voi però in generale ricordate sempre di metterli all'inizio di ogni script questo perché così se avete più programmi che dovete fare andare come prima cosa dato che MATLAB esegue le operazioni una dietro l'altra per prima cosa pulite il workspace così vi assicurate che non ci siano conflitti magari con variabili legate a un programma precedente poi pulite la command window così siete sicuri di visualizzare a schermo soltanto ecco l'output di questo file di cui volete fare il run e chiudete le figure giusto per non avere ecco tantissime figure aperte tenere aperte insomma soltanto quelle che vi vengono date da questo file quindi ricordate sempre consiglio che vi do di mettere questi tre comandi ok detto ciò possiamo andare finalmente al nostro esercizio quindi matrice A cosa ci chiedeva quindi una matrice con meno 1 3 2 nella prima riga quindi parentesi quadre meno 1 3 2 punto e virgola nell'altra riga 5 meno 8 6 quindi 5 meno 8 6 poi punto e virgola di nuovo 1 0 1 1 0 1 metto il punto e virgola perché non voglio che mi stampi il risultato faccio run ok a questo punto per assicurarmi che è tutto a buon fine vado qua ovviamente non visualizzo niente perché ho messo il punto e virgola alla fine diciamo dell'espressione dove calcolo A ma la mia matrice è qui nel workspace se io faccio il doppio clic la posso visualizzare quindi tutto è andato a buon fine adesso c'era da dichiarare torniamo nel nostro script c'è da dichiarare un'altra matrice la matrice B come è fatta la matrice B? sempre una 3x3 1 2 6 nella prima riga quindi 1 2 6 punto e virgola andiamo nella seconda riga 3 4 0 3 4 0 ultima riga meno 1 meno 1 2 meno 1 meno 1 2 salvo ok adesso ci chiede di calcolare prima vi assicuriamoci che siamo tutti a buon fine quindi se rifaccio run che cosa succede? mi toglie la A mi pulisce la command window mi chiude figure ma non ne ho di nuovo mi ridichiara la A e mi ridichiara la B quindi adesso se io vado qua vedo la mia matrice A e anche la mia matrice B perfetto quindi la prima cosa che ci chiede di calcolare è A trasposto basta veramente scrivere il comando in quel modo magari l'assegno a una nuova variabile che chiamo A underscore TR per indicare che è trasposto e dico che A TR deve essere uguale ad A seguito dall'apice se faccio run ho qui la mia A TR e vedo che è uguale ad A ecco magari le apro entrambe ok qua ho A TR e qua ho A come vedete una è la trasposta dell'altra l'altra cosa che ci chiede di calcolare è la somma tra matrici quindi A più B la chiamerò C A più B da notare che questa operazione è resa possibile e funziona infatti perché A e B hanno le stesse dimensioni sono entrambe 3 per 3 e a tal proposito vi dico che chiaramente Matlado conosce le regole dell'algebra e operazioni matriciali diciamo le fa soltanto se le dimensioni sono coerenti quindi se B avesse avuto una dimensione diversa da quella di A ci avrebbe dato errore le altre operazioni sono A meno B ok che sarà simile ora la facciamo poi scalare per matrice quindi 4 per A quindi chiamiamo la matrice D la matrice delle differenze A meno B e poi chiamiamo la matrice S grande che è quella scalare per matrice quindi 4 per A facciamo andare andiamo nel workspace ed è tutto qua quindi questa è la matrice scalare per matrice questa è quella differenza poi voi vedete potete assicurarvi cliccando qui che l'operazione sia andata a buon fine A per B prodotto matriciale quindi anche in questo caso l'operazione va a buon fine se sono rispettate le regole dell'algebra quindi il numero di righe di B deve essere uguale al numero di colonne di A altrimenti abbiamo errore in questo caso sono due matrici 3 per 3 quindi va tutto a buon fine quindi vado nel mio script faccio la matrice P che sta per prodotto quindi A per B prima vedo anche l'altra operazione che è quella di elevamento a potenza l'elevamento a potenza che si fa con questo operatore da notare che nel caso matriciale fare l'operatore elevamento a potenza è come fare A trasposto per A quindi l'operatore elevamento a potenza è come sia fare A trasposto A ma non prende ogni singolo elemento di A e fa il quadrato per quello l'operazione è diversa adesso lo vedremo quindi abbiamo detto quindi la matrice pot sta per potenza faccio A al quadrato c'era forse qualcos'altro? no ok faccio run ecco a tal proposito forse è meglio mostrarvi questa cosa quindi apriamo la matrice A è la matrice pot quindi come vedete in questa posizione non è che non vedo 1 e qua non vedo 9 su pot perché fare l'elevamento a potenza non vuol dire elevare al quadrato ogni singolo elemento ma è la stessa cosa di fare A trasposto per A se invece vogliamo fare così come ecco fare scusate così come anche fare il prodotto A per B è un prodotto matriciale non vuol dire moltiplicare l'elemento in posizione 1 1 di A con l'elemento in posizione 1 1 di B e così via queste sono le cosiddette operazioni dette element wise cioè elemento per elemento che si possono fare tramite l'operatore punto che cosa vuol dire? che io posso fare A underscore pot se voglio prendere ogni elemento di A ed elevarlo al quadrato facendo la seguente operazione A punto operatore di elevamento a potenza 2 e metto il punto e virgola se io metto questo punto prima dell'operatore elevamento a potenza MATLAB capisce che io voglio prendere ogni elemento di A e applicargli questa funzione questo elevamento a potenza se io adesso faccio run e vado a vedere A pot qui c'ho la mia A vedete che A pot ogni elemento ad esempio l'elemento in riga 1 è colonna 2 di A e 3 su A pot allo stesso punto ho 3 al quadrato che è 9 ok questa stessa cosa vale anche per il prodotto cioè io posso fare posso fare ecco il prodotto elemento per elemento facendo fatemi fare per chiarezza per evitare confusione lo chiamo A underscore pot underscore L wise quindi per ricordare che è element wise questo qua lo chiamo P che sta per prodotto L wise ovviamente sono sempre preferibili i nomi non troppo complicati ma qui sto usando dei nomi insomma che ci aiutano un pochino a memorizzare la funzionalità quindi voglio fare un prodotto elemento per elemento quindi farò A punto per B quindi in questo caso abbiamo due matrici 3 per 3 l'elemento in posizione I J di P L su A sarà uguale al prodotto tra l'elemento in posizione I J di A e l'elemento in posizione I J di B quindi andiamola a vedere se io faccio run e vado su P L wise magari apriamo anche B ok abbiamo A prendiamo un elemento di A ad esempio questo elemento seconda riga prima colonna 5 nel caso di B nella stessa posizione abbiamo 3 e qui abbiamo 15 e così stessa cosa per tutti gli altri elementi quindi l'operatore punto fa questo tipo di operazioni ok autovalori autovettori così come è possibile fare operazioni base con matrici anche era prevedibile che MATLAB avesse anche tutto un insieme di funzioni specifiche per le matrici ad esempio la funzione EIG che permette di calcolare gli autovalori EIG sta per eigenvalues che appunto è il termine inglese per indicare gli autovalori quindi se io faccio EIG di A mi dà in output un vettore che qui in questo esempio lui assegna la variabile che è chiamato A che contiene gli autovalori in particolare c'è il vettore colonna degli autovalori ok così come è possibile specificare uno o più parametri di ingresso alla funzione è possibile specificare prima dell'uguale uno o più variabili questo chiaramente non vale per tutte le funzioni ma per alcune funzioni è possibile nel caso della funzione EIG ad esempio se io specifico una sola variabile prima dell'uguale e utilizzo la funzione EIG ottengo in output gli autovalori se ne specifico due ottengo come mi dicono qua le slide la matrice degli autovettori normalizzati e una matrice diagonale che ha sulla diagonale gli autovalori quindi a seconda della sintassi con cui scrivete una funzione potete avere un output diverso vediamolo direttamente nella pratica quindi chiamerò A la variabile autovalori faccio come fanno le slide se faccio EIG di A punto e virgola e faccio run ottengo questo vettore colonna e questi qua sono gli autovalori della matrice A se però scrivo diversamente se io scrivo che voglio più output e questo lo specifico sempre con le parentesi di quadri come con le matrici V e D ma potete chiamarle come volete voi e faccio EIG di A la funzione va vedete che qui però mi dà in output appunto V e l'altra matrice è D la prima la prima presenta presenta gli autovettori normalizzati della matrice A la seconda è una matrice diciamo diagonale dove nella diagonale abbiamo gli autovalori infatti vedete questi numeri sono gli stessi di A quindi a seconda della sintassi abbiamo un output diverso ancora una volta come facciamo a sapere questa cosa a priori se noi sappiamo che la funzione per gli autovalori è si chiama appunto EIG facciamo help e qui abbiamo tutto quello che che ci serve ci sono tantissime varianti chiaramente io vi ho mostrato le prime due al solito se volete saperne di più fate doc e vi si apre la documentazione quindi questi due comandi sono fondamentali ogni po' perché chiaramente è impensabile credere di poter memorizzare proprio tutto oltre a essere a mio parere anche inutile ok poi qua abbiamo altre funzioni ad esempio la funzione det A la funzione inv A e la funzione rank di A che ci permettono rispettivamente di calcolare determinante inversa e rango della nostra matrice quindi tornando nel nostro script chiamo con di piccolo il determinante chiamo con forse faccio mat inv la matrice inversa con r piccolo invece chiamo il rango della matrice faccio rank A ok d mat inv ed r faccio run quindi determinante 27 questa è la mia matrice inversa mat inv e il rango è 3 ok dato che ho detto diverse cose uno magari può pensare di appuntarsi soprattutto quando scrive un codice che magari è lungo magari fa qualcosa di complesso scrivere degli appunti diciamo sul codice che non vengono eseguiti come comandi i cosiddetti commenti i commenti in matlab si scrivono anteponendo al commento che vogliamo mettere l'operatore percentuale ad esempio voglio ricordarmi che l'apice vuol dire trasposizione allora scrivo qua apice è l'operatore di trasposizione trasposizione esatto magari questo voglio ricordarmi che questo qua ne basta uno tra l'altro di simbolo per cento voglio ricordarmi che A per B mi fa il prodotto matriciale scrivo prodotto matriciale e così via ecco magari voglio ricordarmi questo qua all'inizio può risultare meno intuitivo che fare questa operazione equivale a fare equivale a fondamentalmente ad A trasposto per A qui magari posso scrivere posso scrivere l'operatore punto anzi lo metto operatore così serve per operazioni cosiddette element wise e via dicendo potete scrivere insomma tutto quello che volete e queste scritte che si trovano vengono evidenziate tra l'altro in verde si trovano dopo l'operatore percentuale non vengono eseguite inoltre posso anche rendere lo script più ordinato se io metto all'inizio di una riga il doppio operatore percentuale e lascio uno spazio come vedete mi divide una sezione e questo aiuta a dare ordine ad esempio voglio raccogliere queste ultime funzioni che vi ho mostrato le voglio mettere in una sezione a parte allora le copio le metto qui sotto e magari scrivo in questa sezione posso dare un titolo tipo autovalori determinante inversa e rango come vedete è soltanto per una questione di ordine ma quando il codice diventa molto lungo e complesso può tornare molto utile ok andando avanti ecco queste qua sono operazioni fondamentali da fare sulle matrici cioè l'indicizzazione immaginiamoci di avere una matrice di voler prelevare determinati elementi quindi un sotto insieme di quella matrice si può fare con le parentesi tonde se ad esempio ho una matrice che si chiama A e scrivo io A tra parentesi gli passo due valori separati dalla virgola ad esempio facciamo finta questo I uguale a 2 J uguale a 3 vuol dire che io voglio prendere lo scalare che si trova alla posizione riga 2 colonna 3 della matrice A allora separiamo il tutto scriviamo indicizzazione ad esempio io voglio l'elemento che sta in posizione 2 e 3 lo assegno a una variabile che chiamerò a piccolo underscore 2 underscore 3 potete chiamarla al solito come volete quindi faccio A che so che è nel mio workspace perché l'ho dichiarata qui e gli passo due elementi quindi due per dirgli il primo parametro è il numero di righe virgola è il numero della colonna in cui voglio andare a prendere l'elemento 3 esattamente come farei con una funzione punto e virgola faccio run qui ho il mio elemento A2 3 che è 6 la mia matrice A quindi riga 2 colonna 3 sono proprio andato a prendere questo gli altri comandi sono simili quindi abbiamo ok qui abbiamo A la sintassi è uguale ma vediamo che in questo esempio come primo parametro gli passo i due punti in quest'altro esempio glielo passo come secondo parametro l'operatore due punti vuol dire prendi tutto cioè se io prendo A e gli passo come primo elemento che è quello che mi dice la riga da prendere due punti fondamentalmente lui mi dice di quella colonna cioè della colonna j prendi tutte le righe quindi in pratica mi estrae la colonna jesima di A allo stesso modo se io faccio A come primo argomento gli passo i e poi due punti sto dicendo vai alla colonna alla riga i e prendimi tutti gli elementi quindi prendi tutti gli elementi della riga e in pratica estrae la riga iesima di A prima di andarla a vedere vi spiego anche il comando AND AND è un modo per dire l'ultimo quindi senza specificare il numero se io metto AND vai a prendere l'ultimo in questo caso l'ultima colonna di A tipo qua gli sto dicendo della matrice A prendi tutte le righe ma dell'ultima colonna AND e qui gli sto dicendo prendi tutte le colonne perché c'è i due punti ma tutte le righe c'è l'ultima riga scusate l'ultima riga e tutte le colonne vediamoli nella pratica quindi io ad esempio dichiaro A first call quindi voglio tutta la prima colonna di A che cosa vuol dire? prendo la mia matrice A e tra parentesi cosa gli passo? voglio prendere gli elementi in tutte le righe ma della prima colonna quindi due punti uno faccio qualcosa di simile con la riga magari voglio la seconda riga second row ma la voglio tutta quindi vado alla seconda riga e la voglio tutta allo stesso modo posso voler prendere magari l'ultima l'ultima colonna e questo posso farlo in due modi sulla base di quanto abbiamo appena detto dato che io so che A è una 3x3 posso fare così oppure posso scrivere AND che è la stessa cosa perché in questo caso AND è uguale all'indice 3 questa mi prende l'ultima colonna allo stesso modo così vado a prendere l'ultima riga quindi AND vuol dire prendi l'ultimo quindi possiamo verificare questi calcoli facciamo run teniamo sempre la nostra matrice A aperta qui ok A first call riusciamo a leggerlo anche da qua meno 151 ok che è la prima colonna l'ultima colonna 261 esatto l'ultima riga 101 ok direi che era tutto forse c'era anche un altro comando ah ha preso poi anche la seconda riga quindi 5 meno 8 6 eccolo qua second row 5 meno 8 6 perfetto dopodiché abbiamo ancora altri comandi quindi A uguale parentesi quadre senza nulla dentro se A non era dichiarato mi crea una matrice vuota se A era dichiarata cancella tutto il suo contenuto poi abbiamo V I dove in questo caso V è un vettore quindi qua mi sto dicendo la notazione è questa nel caso in cui abbiamo una matrice che quindi ha due dimensioni infatti passiamo due parametri nel caso in cui abbiamo un vettore sia che questo sia un vettore riga sia che questo sia un vettore colonna immaginiamo che questo vettore si chiami V se voglio l'iesimo elemento di quel vettore tra parentesi gli passo l'indice in cui si trova l'elemento che voglio recuperare lo vediamo subito nel nostro caso A first call quindi la prima colonna di A è un vettore quindi possiamo utilizzarlo ad esempio voglio l'elemento che si chiama B lo chiamo B2 lo chiamo anzi il vettore si chiama A first call poi faccio underscore 2 quindi voglio giusto per indicare che voglio il secondo elemento del vettore che si chiama A first call quindi prendo A first call e tra parentesi gli passo 2 se faccio run questo vale sia che il vettore sia riga sia che il vettore sia un vettore ecco colonna ok questo è A first call 2 è uguale a 5 e questo A first call quindi 1 5 andate a prendere proprio questo elemento ok poi altri due altri due comandi importanti con le matrici sono il comando size e il comando length ecco il comando size si usa con le matrici e mi dà un output di due elementi quindi io lo posso specificare in questo modo tra parentesi quadre metto i due output e poi seguito da size passandogli dentro la matrice in questo caso come output il primo elemento mi darà il numero di righe della matrice A e il secondo elemento il numero di colonna della matrice A e poi abbiamo il comando length che invece sarebbe la versione di size ma per vettori quindi sia che è un vettore riga che è un vettore colonna se io utilizzo length mi dice quanti elementi ha quel quel vettore quindi se io vado qua e faccio m virgola n uguale size di A e vi faccio vedere anche length lo chiamo k uguale length di prenderò un vettore prendo ad esempio il mio A first call me lo appunto size è per le matrici length è per i vettori quindi mi aspetto che m ed n siano 3 e 3 perché A è una matrice quadrata con numero di righe uguale al numero di colonne e k mi aspetto che sia uguale a 3 perché A first call è un vettore di lunghezza 3 andiamo a vedere m qui k è qui entrambi uguali a 3 ed n sta qui tutti uguali a 3 ok stiamo ancora sui sui vettori vediamo nuovi metodi per generare i vettori possiamo generarli ad esempio con l'operatore due punti ok noi abbiamo detto magari mettiamoci sempre sul nostro script che i vettori in fondo sono un caso particolare di matrice quindi io posso semplicemente dichiarare vettori come dichiarerei una matrice ad esempio per un vettore riga apro le mie parentesi quadre e metto i miei valori metto 1 3 5 6 ad esempio nel caso di un vettore colonna separo questi valori con il punto e virgola però adesso immaginiamo di voler fare un vettore molto lungo e magari omogeneo qua mi da l'esempio da 1 a 5 che ancora ancora è gestibile immaginiamo di voler fare un vettore di voler creare un vettore che va da 1 a 100 quindi numeri diciamo consecutivi da 1 a 100 ora chiaramente non è comodo andare a inserire a mano se però scriviamo questa sintassi possiamo farlo molto facilmente in questo esempio che vedete qua sulla slide in pratica sta dicendo di creare un vettore riga che di default l'operatore due punti mi crea un vettore riga dove il primo elemento del vettore è 1 e poi deve andare fondamentalmente di passo 1 per arrivare a 5 quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 quindi se io faccio punto di partenza e punto di arrivo mi mette tutti i valori in mezzo saltando di 1 quest'altra versione è diversa e viene utilizzata se voglio spiegare il passo se voglio specificare il passo quindi io faccio x uguale punto di partenza quindi il primo valore che è 1 poi specifico il passo che qua è 0.5 poi un'altra volta due punti e il punto di arrivo quindi vediamo un po' degli esempi anche noi quindi il vettore x faccio un vettore da 1 a 100 punto e virgola faccio run e qui è il mio vettore però magari voglio specificare il passo quindi voglio un vettore che va da 1 a 100 ma con passo 0.5 quindi devo utilizzare l'operatore due punti per ben due volte in mezzo devo mettere il passo quindi 0.5 e 100 lo chiamo x2 questo qua se io faccio run ecco stavolta vedete che chiaramente le dimensioni del vettore dipendono un po' anche dall'utilizzo che ho fatto del comando nel primo caso ho un vettore 1 per 100 nel secondo 1 per 199 perché chiaramente gli ho detto punto di partenza e punto di arrivo e lui poi ci arriva con il passo che ho specificato quindi 1 1.5 e 2 2.5 e così via fino ad arrivare all'ultimo fino ad arrivare a 100 ecco un'alternativa all'operatore due punti altrettanto importante simile ma non proprio uguale è l'operatore lean space cioè si può fare qualcosa di questo tipo ma in un altro utilizzando una funzione ad esempio voglio utilizzare y e scrivo lean space lean space prende in input tre valori il punto di partenza del mio vettore ad esempio 1 il punto di arrivo ad esempio 100 e il terzo parametro è il numero di elementi che io voglio in quel vettore quindi notare la differenza mentre in questo caso io specifico con l'operatore due punti se gli voglio passare tre valori faccio punto di partenza due punti il passo e il punto di arrivo quindi la dimensione di questo vettore dipenderà in qualche modo dal passo infatti la dimensione di questo è 199 oppure io posso specificare con l'e space il punto di partenza quindi da dove voglio partire dove voglio arrivare quale deve essere l'ultimo valore del mio vettore e quanto voglio che sia grande questo vettore e il passo verrà calcolato di conseguenza quindi io voglio un vettore che abbia ad esempio che vada da 1 a 100 ma che contenga 300 elementi lo posso specificare così faccio run se io vado a vedere y vedete che una riga per 300 colonne perché di default queste operazioni sia i due punti che l'in space ci danno dei vettori riga chiaramente il passo è un valore che adesso non so ma che si è calcolato per fare in modo diciamo che dal primo elemento al 300 ci arrivi ecco con un certo passo quindi in pratica specifico il punto di partenza il punto di arrivo è la dimensione del vettore ma non do delle specifiche sul passo poi MATLAB se le calcola di conseguenza quindi come ho già detto queste funzioni poi ci danno dei vettori che sono riga ma se noi vogliamo averli colonna è facile basta possiamo utilizzare l'operatore di trasposizione quindi posso metterlo qua se io metto trasposto qui e rilancio vedete adesso è 300 per 1 però di default me lo fa come un vettore riga passiamo ai polinomi quindi anche nel caso dei polinomi si utilizza una rappresentazione matriciale in particolare il polinomio viene rappresentato come un vettore riga che contiene i coefficienti del polinomio in ordine decrescente delle potenze del polinomio cosa vuol dire? se io ad esempio qua ci mostro un polinomio un vettore riga di 4 elementi se io con questo vettore riga voglio rappresentare un polinomio come va interpretato questo vettore riga? 4 elementi vuol dire che la massima potenza di quel polinomio è il cubo perché la notazione è quella posizionale quindi l'elemento più a destra è quello a potenza 0 poi c'è quello a potenza 1 poi c'è quello a potenza 2 poi c'è quello a potenza 3 quindi se questo fosse stato un vettore riga di 5 elementi allora avrebbe rappresentato un polinomio la cui massima potenza era il quarto grado i valori che poi sono contenuti in questo polinomio rappresentano il coefficiente che va moltiplicato a quella potenza ad esempio quindi con questo p se io voglio se io voglio rappresentare un polinomio i coefficienti di un polinomio posso farlo con questo vettore p e devo leggerlo in questo modo quindi l'elemento più a destra è quello che viene moltiplicato per x alla 0 infatti è 3 per x alla 0 che è 1 quindi non si vede meno 6 quello che va a moltiplicare x alla 1 quindi meno 6 per x 0 è quello che va a moltiplicare x al quadrato infatti in questo caso non c'è e 1 è quello che moltiplica x al cubo quindi capite bene che con questa leggenda è possibile interpretare i polinomi a partire da vettori e questo automaticamente apre la possibilità a MATLAB di poter eseguire di metterci a disposizione delle funzioni specifiche appunto per i polinomi tipo la funzione roots che permette di trovare le radici del polinomio p quindi io a roots passo se io prendo la funzione roots e passo un vettore riga MATLAB capisce che quel vettore riga in realtà è la rappresentazione di un polinomio e lo interpreta esattamente come vi ho spiegato io adesso che va interpretato e mi calcolo le radici di questo polinomio in questo caso allo stesso modo oltre a roots esistono anche tutta un'altra serie di funzioni immaginiamo di voler fare il prodotto tra due polinomi questo diciamo può essere fatto mediante l'operazione di convoluzione dei loro coefficienti e MATLAB ci fornisce la funzione che è AB quindi se io ho questi due vettori A e B posso farne la convoluzione C facciamo l'esempio scriviamo polinomi quindi questa qua è la sezione che riguarda i polinomi abbiamo il nostro vettore A che più che A più che A che in questo caso è un vettore che rappresenta appunto un polinomio quindi 1, 2, 3 quindi questo polinomio quindi ha tre elementi questo vettore quindi la sua quindi che polinomio mi va a rappresentare se ha tre elementi la massima potenza di questo polinomio cioè la potenza più alta che compagna in questo polinomio è il quadrato qui lo scrivo sotto forma di commento questo in pratica è come dire x al quadrato più 2x più 3 l'altro polinomio l'altro vettore riga rappresenta l'altro polinomio è 4, 5, 6 anche qui se vogliamo specificarlo quindi questo qua è 4 per x al quadrato più 5 per x più 6 e voglio calcolare il prodotto tra questi due polinomi questo si fa mediante la convoluzione dei coefficienti quindi il comando la funzione per la convoluzione è conv potete vedere i dettagli di questa funzione utilizzando l'help o il doc in questo caso dobbiamo passare il primo polinomio e il secondo polinomio quindi i due vettori di cui vogliamo fare la convoluzione andiamo a vedere il contenuto di c posso anche visualizzare se una se ho delle variabili nel workspace e voglio visualizzare nella command window basta che le chiamo per nome ad esempio io qua ho la mia c che è il risultato c minuscolo della mia operazione se io qua digito c e faccio invio la visualizzo ottengo un vettore riga stavolta di 5 elementi che è appunto il risultato della convoluzione quindi che cosa vuol dire che se io prendo questo polinomio e voglio fare il prodotto con quest'altro polinomio scrivo la sua rappresentazione come vettore riga e faccio la convoluzione e mi trovo la sua rappresentazione come vettore riga questo qua chiaramente interpretato come polinomio sarebbe quindi 4 per x alla qua a 5 elementi quindi a sinistra abbiamo l'elemento più a sinistra è quello alla quarta potenza quindi 4 per x alla quarta più 13 per x al cubo più 28 per x al quadrato più 27x più 18 e questa è la convoluzione non vedremo spesso i polinomio ma per conoscenza comunque vi spiego anche queste funzionalità qua vediamo poi tutta una serie di funzioni ecco matematiche che possono essere utilizzate quindi abbiamo il seno il coseno la tangente l'arco tangente l'esponenziale il logaritmo il logaritmo in base 10 questo log è il logaritmo naturale e la radice quadrata e qui per quello che riguarda le prime quattro funzioni ne abbiamo abbiamo due varianti ad esempio il seno può essere scritto come seno di z o sin di dove di sta per degrees cioè questo seno vi dà il risultato quindi se questo ad esempio è 90 questo z è 90 se faccio il seno di 90 ottengo il risultato in radianti se invece faccio sin di di 90 ottengo il risultato in gradi la differenza è questo questa è una cosa a cui chiaramente poi bisogna stare attenti per non confondersi nel caso in cui non riusciamo poi a interpretare il risultato insomma bisogna fare distinzione e stare ben attenti chiaramente se invece di passargli un singolo valore io gli passo un vettore allora il seno di un vettore mi restituisce un vettore con le stesse dimensioni dove ogni elemento è il seno di quell'elemento stessa cosa per tutte le altre per tutte le altre funzioni proviamo ad esempio con con exp che è l'operatore diciamo esponenziale faccio un altro vettore v anche se l'ho dichiarato prima vabbè lo andrà a sovrascrivere facciamo un vettore colonna ad esempio 6 punto e virgola 3 punto e virgola 7 e poi il punto e virgola finale quindi questi qua sono per andare a capo questo qua è per non stampare il risultato a schermo faccio run questo è il mio vettore se voglio visualizzarlo a schermo digito qua e lo vedo dichiaro exp dv allora la variabile la chiamo vesp e la funzione exp a cui passo v se faccio run dovrei avere exp dv magari la chiamo da qua no come l'ho chiamata vesp scusate e questo qua appunto è la potenza questa notazione che utilizza matlab e più 0 3 vuol dire 10 alla terza questo è il modo con cui matlab scrive le potenze quindi e più 0 3 è 10 alla terza e più 0 4 è 10 alla quarta e così via non vi faccio vedere passo per passo tutti i comandi anzi però vi invito diciamo a provarli ma diciamo la logica è uguale ok poi qua ci spiega le operazioni elemento per elemento ma sono le stesse sono quelle che vi ho spiegato io all'inizio quindi mettendo il punto davanti all'operatore diciamo di turno appunto se applicate a vettore o matrice agiscono su ogni elemento del vettore il discorso che io chiamavo element wise e arriviamo così ai grafici quindi per adesso vediamo grafici bidimensionali il comando principale l'istruzione principale è plot ad esempio plot x y se io passo a plot appunto due vettori x y di una certa dimensione devono essere di uguali dimensioni produco un grafico dove appunto in x ho i valori della scissa in y i valori dell'ordinata ad esempio proviamo a fare questo esercizio insieme cioè di tracciare il grafico della funzione y uguale x quadro tra meno 10 e 10 ok quindi andiamo nel nostro script facciamo un'altra sezione per tenerlo più ordinato possibile la chiamiamo grafici quindi vogliamo fare riscrivo qui la consegna fare il grafico di y uguale x quadro questa non è l'istruzione ma qua sto semplicemente dicendo appunto sto riscrivendo la consegna allora per prima cosa bisogna utilizzare il comando figure se io faccio figure quello che succede quando faccio run mi si apre questa finestra dove non c'è nulla all'interno automaticamente la chiama figure one perché non l'ho specificato altrimenti posso specificare il numero ad esempio se ho più figure faccio figure 2 e mi chiama figure 2 e così via magari noi la specifichiamo facciamo figure one quindi figura figura 1 dopodichè in questa figura possiamo andare a mettere il nostro plot bisogna utilizzare plot e passargli dentro i due vettori il vettore x e il vettore y che però non abbiamo o comunque non sono questi qua che abbiamo dichiarato prima con questi volevo spiegare altre cose quindi dobbiamo ridichiararli abbiamo detto che questa funzione deve essere compresa tra meno 10 e 10 anzi lo specifico nella consegna tra meno 10 e 10 che cosa vuol dire che il vettore x di fatto deve essere compreso tra meno 10 e 10 allora possiamo utilizzare il nostro operatore ad esempio l'operatore due punti quindi punto di partenza meno 10 punto di arrivo 10 così questo questo mi permette di avere un vettore riga se io faccio run c'è qualche errore ah ok per adesso togliamo la funzione plot ok se io faccio run e vado a vedere x ecco qua il mio vettore riga quindi vado a meno 10 a 10 a 21 elementi e così ho il vettore il primo parametro che devo assegnare alla funzione plot adesso devo andare a calcolare y y è definito come x al quadrato chiaramente non va scritto come l'ho scritto qui questo è solo per riscrivere la consegna ma io voglio in pratica perché cosa vuol dire fare y uguale x al quadrato vuol dire che dove x è uguale ad esempio a 3 y è uguale a 9 dove x è uguale a 4 y è uguale a 16 vuol dire che y è uguale a x ma dove ogni elemento è stato posto al quadrato quindi dobbiamo fare un elevamento a potenza element wise cioè posso dichiarare y come x punto elevato al quadrato se io faccio così ottengo y che ha le stesse dimensioni di x ovviamente e come vedete ogni valore non è altro che il valore al quadrato di x adesso quindi ho due vettori della stessa dimensione posso inserirli nel comando plot quindi il primo elemento di plot è l'elemento nelle ascisse il secondo è l'elemento nelle ordinate se adesso faccio run mi ritrovo la mia funzione qua quindi configure quindi ricapitolando ho dichiarato prima il mio vettore di elementi sulle ascisse quindi da meno 10 a 10 in questo caso di passo 1 perché non l'ho specificato altro con l'operatore due punti quindi avrò meno 10 meno 9 meno 8 meno 7 meno 6 e così via quindi y è esattamente uguale a x e ha le stesse dimensioni di x e deve avere le stesse dimensioni di x e ogni elemento è al quadrato e ho aperto una figura che è questa finestra qui e dentro questa figura ho messo questo grafico che ho ottenuto facendo plot ok adesso vorrei aprire una piccola parentesi su quello che è il passo appunto qui ho detto che x utilizzando questa notazione in pratica io ho dichiarato un vettore che va da meno 10 a 10 di passo 1 di default ma come sapete io posso specificare il passo ad esempio posso fare così questo dal punto di vista grafico fa una differenza perché di fatto come vengono fatti i grafici in MATLAB in pratica l'operazione plot va a prendere i due vettori e va a considerare i valori discreti quindi nel caso di il primo valore di x lui vede meno 10 quindi si mette qua vede il valore corrispondente che è 100 e qua traccia un punto vede se ci passo col mouse tra l'altro me lo indica dopodiché va a vedere il secondo valore del mio vettore x che è meno 9 quindi si posiziona in corrispondenza di meno 9 anche qua ho specificato il passo scusate ok quindi disegna il primo punto in posizione meno 10 100 dopodiché va nell'altro valore che è meno 9 nel caso di x vediamo se riesco a a trovarlo scusate ok eccolo meno 9 quindi cliccando ci mette queste etichette meno 9 81 però vedete che i punti sono molto separati quindi lui in pratica plot mette tutti questi punti che in questo caso sono 21 punti lungo l'asse x i corrispondenti 21 punti lungo l'asse y dopodiché li unisce tracciando una linea un'interpolazione quindi non si vede qua perché è coperta dall'etichetta ma questo punto è connesso a questo punto da una linea e questo qua avrà una riflessione importante perché se io faccio un passo troppo largo se ad esempio io dichiaro il vettore x da meno 10 a 10 ma con passo 5 vedete che la mia funzione ha questa forma perché adesso se io ho fatto un passo troppo largo quindi il vettore x se lo vado a guardare non ha più 21 elementi ma ne ha 5 perché gli ho detto di partire da meno 10 arrivare a 10 ma con un passo 5 di conseguenza il vettore y sarà fatto così quindi se io gli dico poi di disegnare questo grafico lui mette il primo punto qua il secondo punto qua il terzo punto qua il quarto punto qua il quinto punto qua e li unisce li unisce tracciando una linea questo chiaramente dal punto di vista grafico non è molto bello perché noi sappiamo che vogliamo rappresentare una parabola ma ovviamente tenendo un passo troppo largo non sembra una parabola ma sembra più una spezzata quindi è sempre diciamo la morale di questo discorso che sto facendo è che bisogna sempre utilizzare un passo sufficientemente largo ovviamente non utilizziamo un passo eccessivamente fino cioè non ha senso fare x dimensione ecco un milione facendo un passo minuscolo perché altrimenti abbiamo problemi da un altro punto di vista che dal punto di vista della memoria nel caso di una parabola andava bene anche specificare passo 1 se proprio voglio fare un plot più fine posso specificare un passo 0 1 che già è molto piccolo e ottengo una parabola molto più molto più parabola ecco adesso possiamo anche personalizzare il nostro grafico quindi per aiutarne aiutare diciamo la leggibilità per migliorare la leggibilità posso utilizzare il comando grid on per plottare una griglia questa qui posso dare un titolo al grafico mediante title quindi devo specificare title aprire le parentesi e in questo caso devo dare una stringa quindi noi per adesso abbiamo operato con dei valori con dei con dei valori numerici di fatto esistono anche le string per dichiarare una stringa basta che uso il doppio apice e scrivo in mezzo qua posso scrivere grafico di una parabola quindi alla funzione title io passo questa stringa faccio run e ho dato un titolo allo stesso modo posso dare un nome agli assi quindi faccio x label l'asse x lo chiamo semplicemente x y label l'asse y lo chiamo y se faccio run vedete qua ho x e qua ho y ah ok più tutta un'altra serie realtà di di comandi qui ci dice ad esempio dell'istruzione axis l'istruzione axis dobbiamo passare qualcosa in questo formato quindi x init xn y init yn ovviamente io le sto leggendo dalle slide al solito voi trovate tutto nella documentazione e nella quindi utilizzando l'help utilizzando il doc questo qua serve fondamentalmente per riscalare il grafico quindi se io voglio zoomare su una certa zona posso passargli un vettore di quattro elementi ad axis dove il primo elemento viene interpretato come il punto di inizio dell'asse x il punto di fine poi dell'asse x poi il punto di inizio dell'asse y e il punto di fine dell'asse y vediamolo in un esempio supponiamo che io voglio zoomare questa zona da meno 5 a 5 per quello che riguarda l'asse y da 0 a 20 per quello che riguarda per quello che riguarda l'asse x scusate da 0 a 20 per quello che riguarda l'asse y allora posso fare axis quindi abbiamo detto da meno 5 a 5 per l'asse x e da 0 a 20 per l'asse y se li ripasso così come un vettore riga e faccio run ok vedete ho zoomato sembrerebbe di no ma se guardate i valori sugli assi ho zoomato perché adesso va da meno 5 a 5 e qua da 0 a 20 posso zoomare ancora di più posso fare invece di meno 5 a 5 faccio da 0 a 5 così forse si nota di più vedete ho fatto uno zoom ce ne sono poi molte altre insomma se date un'occhiata alla documentazione potete sbizzarrirvi ok qui abbiamo un altro esercizio questo qua io lo lascio a voi in pratica vi dice di disegnare il grafico di y uguale seno di x e di y uguale coseno di x fra 0 e 2py e di metterli entrambi sulla stessa finestra quindi abbiamo visto le funzioni seno e le funzioni coseno per il 2py il comando è pi vedete vi da 314 se voi scrivete pi lui lo interpreta come un numero quindi per fare 2py basta che fate 2 per pi chiaramente e vi chiede di farlo sulla stessa finestra in modo da poterli confrontare per fare ciò qua vi dice direttamente la soluzione non ve lo faccio vedere vedetelo voi quando fate l'esercizio ma in realtà qua vi dice esattamente come fare perché cosa vi dice se io qua sotto questo plot scrivessi un altro plot questo qui verrebbe sovrascritto cioè non me li mette insieme automaticamente ma tra i due plot dovete mettere il comando hold on se io faccio plot e faccio il primo plot dopodichè alla riga successiva metto hold on e poi metto un altro plot mi mantiene quello di prima così posso visualizzarle sullo stesso grafico se io volessi fare invece i grafici in due finestre differenti ad esempio nella figure 1 voglio mettere il seno nella figure nella figure 2 voglio mettere il il coseno allora dovete riscrivere cioè dovete mettere tra i due plot figure perché vedete io qua ho fatto figure 1 dopodichè senza più specificare tutti i comandi che ho messo sotto matlab diciamo li ha attribuiti a questa figura ma se io voglio fare un altro plot basta che metto qua figure 2 e tutti i vari plot title e via dicendo che scrivo sotto questo figure 2 verranno automaticamente assegnati a quest'altra finestra sì ok qua vi dà un altro comando che è clf per cancellare la figura corrente ok quando abbiamo più grafici può essere utile in qualche modo distinguerli proprio dal punto di vista grafico lo potevate vedere con l'help o con il doc ma qui vi dice che in pratica plot oltre a prendere come ingresso x e y è possibile specificare altri parametri facoltativi ad esempio tramite stringa è possibile specificare lo stile della linea appunto vi dà qua vi scrive colore linea simbolo in pratica è una stringa particolare che è formata da 1 a 4 caratteri in combinazione tra quelli riportati in questa tabella qui vi dà la leggenda per quello che riguarda i colori ad esempio magenta specificato da m linea potete specificare con il trattino vi fa la linea continua con il doppio trattino vi fa la linea tratteggiata e via dicendo e poi il simbolo in pratica la linea è quella che vi ho detto prima che interpola i due punti il simbolo è il simbolo che viene assegnato al dato vero e proprio che viene disegnato e il colore è semplicemente il colore della linea vi faccio vedere adesso un esempio nel caso della nostra parabola fatemi togliere questa funzione la commento in modo tale che riusciamo a vedere la parabola intera adesso voglio disegnarla ma voglio fare la linea tratteggiata in corrispondenza dei punti voglio mettere dei più e voglio farla di colore magenta quindi secondo questa convenzione devo specificare in un'unica stringa la sequenza di questi chiamiamoli codici quindi vuol dire che dovrò scrivere m doppio trattino più vediamolo subito forse a vederlo è più facile che a spiegarlo quindi io specifico m per il colore doppio trattino per la linea più per il simbolo e questo è il risultato quindi vedete i vari punti qua ho messo passo 0 1 mettiamo passo 1 che così è più facile da vedere ecco dove c'ho il più o il dato vero e proprio la linea tratteggiata è quella che li unisce e il colore è magenta quindi tramite una stringa che appunto è colore linea simbolo qui vedete tutte le varianti nella documentazione chiaramente magari ce ne sono anche di più ok passiamo adesso ai cicli cicli sono fondamentalmente tre quindi il ciclo for il ciclo while e poi c'è il costrutto if else quindi in realtà ci sono due cicli e il costrutto if else partiamo dal ciclo for quindi il ciclo for si basa quindi su un indice un indice che è una sorta di contatore che viene incrementato fino al raggiungimento di un determinato valore appena quel valore viene raggiunto si esce dal ciclo for fin tanto che quel valore non è raggiunto a ogni iterazione viene eseguita una certa istruzione e viene incrementato il contatore vediamo ecco un esempio quindi questa è la sintasi del ciclo for ad esempio for i uguale 1 2 punti 10 ora spiegherò meglio e qua metto and quindi il ciclo viene chiuso dalla parola chiave and questo rappresenta il contatore quindi i non deve per forza essere definita ma la definisco nel momento in cui dichiaro il ciclo for quindi in questa riga e la sintasi è abbastanza semplice da comprendere perché questo operatore lo abbiamo già visto questo ci permetteva di dichiarare un vettore in questo caso da 1 a 10 utilizzato all'interno del ciclo for cosa vuol dire? che io dichiaro la i e le assegno valore 1 entro nel ciclo e eseguo il codice che sta qui in mezzo quindi io qua avrò delle io qua avrò delle istruzioni dopodiché automaticamente il contatore viene incrementato di 1 perché in questo caso è 1 se voglio invece farlo incrementare di 2 basta che specifico il passo quindi viene incrementato allora avremo i uguale a 2 e continuo a fare le istruzioni fino a quando non si arriva al valore finale cioè uguale a 10 appena i risulterà uguale a 10 esco dal ciclo for vediamo un esempio molto molto semplice utilizziamo la funzione display che sarebbe la funzione per stampare nella command prompt qualcosa stampiamo ciao quindi cosa ci aspettiamo cosa ci aspettiamo che succeda qui mi do un warning forse disp forse disp ok si disp appunto sarebbe il comando per stampare a schermo quindi se io faccio run che questa è la figura che deriva dal codice di prima mi aspetto di trovare a schermo per 10 volte il comando c'è la scritta ciao 7 8 9 10 questo è un esempio chiaramente molto molto semplice potete fare possiamo anche stampare fare ovviamente delle operazioni più complesse però in generale questo qua è come funziona il ciclo for possiamo anche stampare magari il contatore per vedere il suo incremento quindi se io faccio disp di così sto stampando la scritta ciao e subito dopo il valore del contatore in quell'iterazione vedete che prima iterazione 1 a mano a mano cresce fino a raggiungere il valore 10 quando raggiunge il valore 10 fa l'ultima iterazione dopo di che esce dal ciclo for una variante del ciclo for è il ciclo while questo viene specificato in questo modo while condizione e poi istruzioni quindi possiamo mettere while k mettiamo while counter lo chiamo minore di 10 qua fa delle istruzioni e al solito mettiamo alla fine and per semplicità metto le stesse istruzioni di prima magari metto una stringa diversa per non confonderle ciclo while e stampo il contatore ecco questa volta mi ha dato un errore mi dice unrecognized function or variable counter e qua c'è un'importante differenza tra il ciclo while e il ciclo for mentre nel ciclo for la i viene automaticamente anche se non è dichiarata viene istanziata nel momento in cui io faccio il ciclo for nel caso del ciclo while devo prima istanziare il mio contatore quindi ad esempio posso farlo partire da 1 io prima faccio counter una variabile gli assegno un valore numerico uguale a 1 una volta che lui entra nel ciclo while prende counter che già deve essere istanziato verifica che sia minore di 10 ed esegue questo codice o in generale le istruzioni che stanno al suo interno vediamo cosa succede adesso se faccio run come vedete sembra stia andando all'infinito perché vedete qua rimane o comunque sta durando più del dovuto se io vado nella command window vedete che continua a stampare ciclo while seguito dal numero 1 ecco questo vi dico che è un ciclo che non finisce mai quindi facciamo ctrl c per terminare l'operazione quindi per forzare la fine dell'operazione cerchiamo di capire cos'è andato storto un'altra importante differenza tra il ciclo while e il ciclo for è che mentre nel ciclo for il contatore viene incrementato automaticamente alla fine del ciclo nel caso del while dobbiamo fare tutto a mano cioè per evitare di finire in un loop infinito dobbiamo ricordarci che alla fine delle nostre istruzioni dobbiamo incrementare il counter quindi io posso fare counter uguale counter più 1 quindi sovrascrivo questo valore di counter con cosa? con il valore che ha adesso a cui aggiungo 1 se voglio come dire ripetere la condizione che è del ciclo for precedente se lo provo adesso termina ecco qua mentre prima terminava 10 stavolta termina a 9 questo qua è legato semplicemente al fatto che la condizione che ho messo è che deve essere strettamente minore 10 io devo specificare che deve essere minore uguale in modo tale che quando il counter è uguale a 10 continuo a fare l'operazione appena diventa uguale a 11 non la fa più ok a tal proposito rapidamente vi descrivo ma sono molto intuitivi i comandi per fare un confronto ecco i comandi per i confronti come minore uguale maggiore vediamoli rapidamente sulla command window faccio clc per pulire la command window se ad esempio faccio 3 posso fare 3 minore di 10 oppure posso fare 4 doppio uguale 5 posso fare esiste anche il comando minore uguale 3 minore uguale di 2 questi sono tutti operatori di confronto in generale abbiamo il minore per minore o minore uguale maggiore o maggiore uguale quindi dove la sintassi è questa nel caso di un confronto quindi se voglio verificare se due numeri sono uguali devo utilizzare il doppio uguale perché l'uguale singolo vi ricordo che è quello per l'assegnazione in generale quando faccio un confronto cosa ho in output qui cosa vedo ans uguale logical 1 quindi un valore numerico che però è un booleano quindi un valore viene interpretato come un valore di verità come vero o falso e nel caso della sintassi di MATLAB logical 1 quindi l'1 viene visto come vero 0 viene visto come falso infatti nella prima operazione 3 minore di 10 questo è vero ho avuto 1 4 non è uguale a 5 mi ha dato 0 3 non è minore o uguale di 2 è uguale a 0 ok poi c'è il costrutto if else e allora vediamo posso fare sempre con un contatore grazie mille o uguale di 1 ok in generale questa è la struttura del costrutto if else if quindi vede se questa condizione è verificata fa una determinata cosa se invece questa condizione non è verificata ma è verificata questa fa quest'altro posso mettere tutti gli else if che voglio anzi vi faccio vedere qua ne ho messi due posso metterne quanti ne voglio altrimenti fa qualcos'altro quindi questo else finale vuol dire se nessuna delle condizioni è verificata allora fai queste istruzioni quindi diciamo che abbiamo istruzioni A istruzioni B istruzioni C istruzioni D proviamo a costruire meglio questo costrutto grazie a tutti grazie a tutti ok in questo caso adesso scriviamo le istruzioni quindi ok ho ultimato il costrutto if else quindi qua dobbiamo avere una variabile counter che dobbiamo dichiarare la inizializzo uguale a 0 una volta entrati nel costrutto if else in pratica va a guardare il valore del contatore se è minore di 10 esegue queste istruzioni mettiamo ad esempio per poterle visualizzare a schermo istruzioni A nel caso in cui il contatore ha un valore compreso tra 10 e 20 quest'operatore la doppia E sarebbe l'end logico quindi vuol dire che questa espressione restituisce un valore di verità nel caso in cui entrambe sono contemporaneamente soddisfatte altrimenti abbiamo il logical OR che ve lo mostro sarebbero queste doppie sbarre magari appuntatevelo perché forse queste nelle slide non ci sono che vuol dire che basta che uno dei due sia verificato noi però vogliamo che il counter si trovi tra 10 e 20 per poter eseguire queste istruzioni quindi metto il logical AND e allora facciamo le istruzioni B se il counter sta tra 20 e 30 faremo le istruzioni C altrimenti faremo le istruzioni D qua ovviamente non fa un loop quindi io ho messo counter ma forse il termine non è appropriato questo è statico quindi lui lo valuta una sola volta si fa i suoi conti dopodiché il codice prosegue quindi magari chiamiamolo value ok aspettate scusate chiamiamolo value perché magari counter fa confondere ok adesso se io metto valore il valore uguale a 0 e dentro in questo costrutto if first chiaramente mi aspetto che mi stampi istruzioni A questo qua è relativo al codice di prima ma qua vedete istruzioni A se metto il valore uguale a 13 avremo istruzioni B perché questa condizione è verificata notate che sto rilanciando il codice qui non c'è nessun loop se lo metto uguale a 20 ho istruzioni ho istruzioni D perché ho istruzioni D cioè è andato nell'else perché qui non ho utilizzato il minore uguale e qui non ho utilizzato il maggiore uguale quindi questa condizione vale se il valore è uguale a 11 vale per valori di value che vanno da 11 a 19 e questo qua per valori di value che vanno da 21 a 29 20 non è compresa in nessuna di queste istruzioni mi ha stampato valori D se volessi comprendere 20 in una di queste allora qua magari devo mettere maggiore uguale se faccio run a questo punto mi darà istruzioni C e così via questo qua è un esempio molto diciamo sono esempi relativamente semplici dove tra le istruzioni ho messo semplicemente un display quindi una stampa a schermo per poter visualizzare per farvi vedere insomma come funzionano questi costrutti che chiaramente possono essere poi utilizzati per fare operazioni un po' più complicate qua ad esempio vi chiede di fare di utilizzare il ciclo for per costruire un per fare una sommatoria quindi ci chiede qua di fare uno script chiamarlo sommatoria.m e questo deve avere un ciclo for che calcola questa somma qua quindi la somma di 9 valori dove ogni valore qui li chiamo come a 1, a 2, a 9 dove in generale ai è dato da questa espressione qui proviamo a farlo quindi ci chiede di fare uno script a parte quindi vado qui faccio new script salvo lo chiamo sommatoria.m al solito vi consiglio di mettere i tre comandi clear, clc e close all in modo tale che quando facciamo andare questo script tutti i dati relativi allo script vecchio vengano cancellati perché non ce li vogliamo portare dietro compreso questo grafico e quindi iniziamo dobbiamo fare una somma quindi for i che va da 1 a 9 tra l'altro il codice ce l'abbiamo nelle nelle slide quindi per i che va da 1 a 9 perché qui ci dice di farlo da 1 alla 9 e dobbiamo fare una sommatoria quindi dobbiamo partire da un valore nullo quindi dobbiamo dichiarare la nostra variabile nel quale andremo a memorizzare la somma lui lo chiama s e lo inizializza a 0 e di volta in volta dovremo a ogni iterazione aggiornare questo valore per aggiornarlo vuol dire che ogni iterazione devo prendere s e deve essere uguale a se stesso più un nuovo termine questo termine sono quelli che lui chiama ai e che in generale ogni ai è dato da questa espressione quindi dal nostro contatore i al quadrato diviso la somma tra il contatore 1 quindi i al quadrato diviso i più 1 faccio run come vedete tutto il grafico e tutti i valori di prima sono spariti perché ho messo quei tre comandi quindi qua ho il mio contatore all'iterazione finale che è uguale a 9 e qua ho la mia somma il mio valore s che è uguale a quella che ci dice insomma la slide ecco in generale gli m file sono appunto questi questi script che abbiamo utilizzato questi con estensione .m dove vengono messe le istruzioni che sono eseguibili da Matlab esiste anche una variante che diciamo il function file quindi così come Matlab ci fornisce delle funzioni già scritte tipo la funzione ai che abbiamo visto la funzione linspace la funzione det per il determinante e così via possiamo anche crearci la nostra funzione custom per fare ciò possiamo fare new e abbiamo qua function se faccio function mi si apre è sempre uno script ma già c'è del codice scritto perché Matlab sa che qui vogliamo andare a scrivere una funzione lo chiamiamo fun example quindi qua dobbiamo mettere il nome della funzione e va messo generalmente uguale al nome del file quindi scriverò fun example qui possiamo specificare gli output qua ce ne mette due possiamo metterne quanti ne vogliamo e qui gli input qui ci dà ad esempio un esempio di ci dà un esempio di funzione quindi qua dichiara la funzione linear io l'ho chiamata in modo diverso questa funzione deve restituire una trasformazione a fine del vettore x vuol dire che noi cosa vuol dire che questa deve essere una funzione che prende in input si aspetta come primo parametro un vettore e come secondo parametro uno scalare come terzo parametro un altro scalare e come output mi dà un altro vettore che è y e che è dato da questa espressione qua proviamo a farlo uguale quindi in output voglio soltanto un valore posso metterlo posso chiamarlo y e in input voglio che prenda tre valori x alfa e beta e qui possiamo mettere delle spiegazioni dei commenti questo è il mio nome e il nome c'è il nome della mia funzione fun example linear transformation così mi ricordo cosa fa qua posso mettere delle spiegazioni più accurate se voglio e in pratica cosa deve fare devo fare posso fare qua posso fare tutto in una riga di operazione quindi io dico che il mio valore y è uguale a alfa no com'era forse la beta più no ok alfa più beta x alfa più beta per x e metto il punto e virgola questi non mi servono più perché il mio output l'ho chiamato y fine adesso io posso chiamare questa funzione dal mio altro script sono nella stessa cartella di lavoro quindi non ho problemi per farlo chiamo la funzione fun example quindi dichiaro il mio vettore faccio un vettore colonna definito in questo modo e l'output lo chiamerò out è uguale a fun example e gli passo dentro v dopodiché devo passare gli altri due parametri che sono l'alpha e il beta della mia trasformazione lineare quindi l'alpha in questo caso è l'intercetta e il beta è il coefficiente angolare della mia trasformazione lineare posso anche dichiararli prima se voglio oppure scriverli direttamente scrivere direttamente i valori qua ve li dichiaro prima per per farvi vedere ad esempio dichiaro alfa uguale a 3 alfa uguale a 3 e beta lo set uguale a 10 quindi io posso passargli lì dentro se faccio run tutto è andato a buon via non ci sono errori e io ho il mio valore out fatemi fare clc out e questo mentre v era questo qui se voi andate a vedere ogni valore è il risultato di quella trasformazione di alfa più beta per v e questo è un esempio di funzione custom che abbiamo dichiarato noi stessi ecco questa abbiamo quasi finito questa qua è una slide di raccomandazione semplicemente ci spiega un po' come MATLAB fa a interpretare i vari comandi quindi quando ad esempio MATLAB vende un determinato nome ad esempio di un'istruzione magari gli scriviamo prova lui cosa fa? va prima a cercare nel workspace se c'è una variabile di nome prova quando quindi noi scriviamo nella command window qualcosa MATLAB prima va a cercare se c'è una variabile che si chiama in quel modo se non la trova va a cercare una funzione built in quindi una delle sue funzioni non una di quelle dichiarate da noi di nome prova se non la trova neanche lì va a vedere nella current folder se c'è un file magari una funzione esterna che abbiamo inventato noi che abbiamo chiamato prova altrimenti va a cercare un file con la sua estensione .m in un diciamo in un patto in un percorso di sistema chiamato matlab pat cos'è che voglio dire senza entrare troppo nei dettagli che quando scegliete i nomi di una variabile cioè non dategli i nomi magari di funzioni che sapete che già esistono quindi se io so che c'è una funzione in matlab che si chiama ai non chiamo la variabile ai perché altrimenti questo mi va a creare casino e questa slide vi dice semplicemente come fa matlab cioè matlab dà ovviamente delle priorità se lui è jai prima presume che sia una variabile chiamata in questo modo in generale però è sconsigliato quindi se sapete che ci sono delle funzioni che hanno un certo nome cercate di di non chiamare in quel modo anche le vostre variabili questo fondamentalmente è il messaggio di questa di questa slide questi sono un po' di comandi utili ma molti di questi li vedremo più avanti quindi clear all un po' come il clear è uguale credo cancele tutte le variabili in memoria si cancella quindi come il clear posso anche fare clear nome di una certa variabile per cancellare solo quella variabile ad esempio voglio cancellare questa A grande faccio clear A sparita ma tutte le altre sono rimaste poi save nome file per salvare tutte le variabili in memoria load per caricarli quindi sì ok però se qua tanto le vedremo le vedremo poi più avanti cd permette di cambiare le directory forse alcuni di voi l'avranno visti nel corso di fondamenti di informatica 1 poi dirls per esaminare i contenuti della directory corrente questi sono alcuni comandi generici ah questo qua il primo è per visualizzare dell'elenco delle variabili presenti nel nel workspace ecco ma i comandi più utili con questo slide vi lascio sono quelli che vi ho detto all'inizio per diciamo scoprire il funzionamento delle funzioni scusate il gioco di parole qui aveva qui chiaramente nelle slide avevamo tutto più o meno ben spiegato comunque io molti dei comandi chiaramente li ricordo perché alle prime armi non dimenticate di farvi aiutare da questi due comandi quindi help seguito dal nome della funzione o doc seguito dal nome della funzione inutile dirvi vi do questo consiglio che potrà sembrare molto banale se uno deve fare una certa cosa ad esempio deve dichiarare una matrice identità e non sa che la funzione si chiama i per quanto possa sembrare semplice vi assicuro che la prassi basta scrivere matlab identity matrix vedete avete un sacco di documentazione sul sito della matwork quindi io clicco qua e scopro che se devo fare una matrice identità con matlab la funzione è i quindi usate google tanto perché la documentazione di matlab è abbastanza fornita specialmente come potete immaginare per queste operazioni basilari ma in realtà anche per cose ben più complesse e vi si apre la documentazione se invece sapete il nome della funzione ma non vi ricordate quanti parametri prende cosa fa se gli passo due parametri o se gliene passo uno cosa fa se specifico un solo output o più output allora utilizzate help e doc ve li ho fatti vedere prima doc per la documentazione per questa per questa lezione direi che è tutto grazie 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 grazie